Siamo nel prossimo studio. Che era molto vicino ad andare al Genova e invece non si è trovato l'accordo e quindi può prenderlo il Sassuolo che è interessato anche a Bersalco. L'Atalanta sta trattando con il Queen's Park Rangers il cartellino di Buonaventura. La Samp piace molto Marcello Trotta classe 92 del Fulham è un difensore e poi la Fiorentina ha rinnovato il contratto di Borja Valero fino al 2019 e lo ha detto ieri in conferenza stampa il giocatore spagnolo. Ufficiale al Verona Obadi preso dal Monaco. Perfetto, grazie allora Emanuele ci ritroveremo sicuramente con le novità di mercato.